E' una scelta fatta a malincuore, ma è l'unica soluzione al problema. E' di questo avviso l'assessore alle manutenzioni del Comune di Tenamo, Valdo di Bonaventura, che ha annunciato che diversi platani di Viale Bovio saranno tagliati perché affetti dal cancro colorato, dato emerso dai carotaggi effettuati dall'agronomo dell'Ufficio Fito Sanitario di Pescara della Regione Abruzzo, sul moncone di pianta che gli operai del Comune avevano provveduto a tagliare dopo la caduta, per fortuna notturna e senza conseguenze del grosso ramo di uno dei circa 100 esemplari che adornano da decenni il viale cittadino. Adesso dobbiamo attivare delle procedure complesse di rimozione di quel tronco, ma nell'arco di 30 metri di abbattimento di tutti gli alberi. Ovviamente le procedure complesse che prevedono teloni, disinvestazione con la monica all'1%, quindi è una procedure complessa, ma la cosa più triste è andare a abbattere degli alberi, un viale bellissimo. Creano pochi problemi. È vero pure che noi dobbiamo mettere a primo posto la sicurezza dei cittadini e quindi non possiamo immaginare che poi si possa ripetere l'episodio del giorno del temporale con la caduta di una parte dell'albero che poteva creare qualche situazione di pericolo ai cittadini. Essendo molto contagioso, il cancro colorato può aver colpito altri esemplari o provenire addirittura da altre piante. Per questo dovranno essere sicuramente abbattuti gli alberi situati nel raggio di 30 metri da quello malato. Poi dovranno essere verificati tutti gli altri. Se vi sono altre diagnosi in faust, si potrebbe innescare un devastante effetto domino. Nel frattempo il Comune ha subito avviato tutte le procedure necessarie per cominciare il prima possibile gli abbattimenti. Adesso stiamo interessando la TEM, si è in grado di fare quel tipo di intervento. Dopodiché, visto che la TEM gestisce il verde della nostra città, dopodiché se no dobbiamo trovare a incaricare qualche dito. Ovviamente dobbiamo anche valutare l'unità dell'importo da mettere in campo perché sicuramente serviranno risorse importanti perché poi si prevede anche lo smaltimento con la messa che bisogna bruciare quegli alberi. Quindi con una spesa abbastanza importante. Quindi speriamo che sia non solo quella parte di quella zona malata e non altre piante. E poi ci dobbiamo preoccupare anche di andare a rimpiantare nuove alberature perché vedere una via così spoglia diventa veramente triste. Però ripeto, noi dobbiamo mettere sempre al primo posto la sicurezza dei cittadini.